Patate, patate, un sacco, 1500 lire! Accattate mille patate, come mancia patate non vale mai! Forza qua, 1500 lire, un pacco di patate, patate! Oh, ce l'hai la licenza? E dove? Più le patate. Non ci fa la licenza per vendere le patate. Ma io la licenza non la posso vendere, manca la quinta. Non mi prende la quinta elementare. E che vuoi? Perché non ti prende? Un patate, qualche patate posso vendere. No, senza la licenza la patate non può vendere. Anzi, dovrebbe essere passato pure l'alba. Ma come la campa la famiglia? Ho due figli. Come la devo campare? Ma questa democrazia me la chiamano. E chi c'entra la democrazia? Ah, non c'entra. No, non c'entra. Non c'entra.